Ok, sta registrando il video, lo sto facendo ora, e niente raga, raccontiamo tante cose, vi voglio dire, lo sto facendo ora, questo pomeriggio, il video nuovo a sveglia sta girando e sta salendo i fanitri, ancora è presto, facciamo il video, così mi riposo e faccio i lavori. Vi voglio dire, io porto bel contenuti e a voi vi piacciono, state qua e le guardate, non vi piace, sciò o vi butto fuori la catapulta, qua devono stare solo le persone che mi seguono, i miei fan e sono il loro idolo, mettete mi piace, seguitemi quando vedete e fate i bravi, non fate i cattivi. Iscrivetevi al canale, bello a tutti ragazzi, siamo tornati, un video sex e voi che facete? Sono qua, fuori pagato, carico, tra poco metto il video su youtube, quello che ho fatto là sotto, vicino un barcone, e niente, John Zina, Yo Yo Menenzini, Cucuse Tamamau, andiamo. Ok, io sono qua, tutto a posto, niente, ora vedo che faccio. Ho cambiato, sto cambiando, non pensate, sto cambiando, continuo, non dico le stesse cose, che sono italiano, calabrese, dialetto e sono meglio di voi, sono bravo, gentile, sono grande, ho 30 anni e sono di Motta San Juano, provincia di Reggio Calabria. Sono un uomo di casa, sono un ragazzo giovane, ancora ho 30 anni e ancora mi devo cercare una ragazza, una donna, quando è ora mi sposo. Io, a me mi piace sposarmi, quando è ora, quando trovo una fidanzata, sto con lei, quando è ora mi sposo e volete venire a un matrimonio mio, o faccio un video, faccio le foto e le pubblico sui social, su youtube, in tutti i parti. Ancora no, ancora sono giovane e ho 30 anni e ancora la devo cercare. Vediamo e la cerco quando vado in giro, che io voglio andare in tutti i parti, che a me mi piace cammanare, andare in giro, fare la passaggiata, fare la genastica, la corsa, andare in giro con i pulmatripoti. Ancora devo prendere la patente, io all'azzaro vicino i computer. Ora si usano i computer, imparate la patente. E dopo, quando mi prendo la patente e la passo, mi compro la macchina. Quella una, così, una prima mano, una macchina. Prima mi devo imparare la patente, prima e dopo vediamo che macchina, ok? E sono qua. E niente. Sono qua, ho messo questo, così dopo bucaccio. E sono qua. Ora troppo capro il telefono post mobile, quello che devo rispondere su Discord, su Telegram, sui social e fare i saluti. Fa caldo, raga. Dopo andiamo nella mia stanza blu, vediamo che ora è, che lo sto facendo ora, questo pomeriggio il video. Oggi ho mangiato la pasta asciutta, ho mangiato i tortellini, la pasta asciutta oggi. E voi? Dai, andiamo. Ah, ok. Io ho toccato i bottoni, così parlo, e non stavo camminando. Ora l'ho toccato e ora sta registrando. Ok, giusto, buono. E niente, andiamo in giro a raccontare tante cose, dai. Ok? Dai, vi faccio le storie. Come si fa la barba, state in attesa. Quando finisce luglio, a metà, quando mi faccio la barba, mi devo raccordare che devo fare le storie. Così vi faccio il tutorial, o i video, le storie. Così imparate come si fa la barba. Ok? Andiamo, dai. Ok. Eccoci qua. Sta camminando. E niente. Eh, così la vita si va avanti, raga. Ok? Boh. Sto guardando il calendario, che si chiama giugno. Sta venendo quasi giugno. 2022. A me mi piace l'estate. Perché l'estate è meglio di inverno. Vabbè. Le persone mi piacciono o l'estate, o l'inverno, o quando c'è la neve. Anche a me mi piace l'inverno, quando fa freddo, o quando c'è la neve. Si può fare i pupazzi inivi, inverno, a Natale. L'estate fa caldo, e ci sono a sei gradi. Si va a mare. E stiamo a casa, mangiamo un cialato. E andiamo a mare, a passeggio. E questa ora, a mattino, pomeriggio, a sera, presto. Si fa a passeggiata, un lungomare. Ricordate? Io una volta, quando andavo a scuola, e dormivo a Melotto Portosalvo. Io, con il pulmino, quello bianco, a Melotto Portosalvo, con quegli altri ragazzi, a Melotto Portosalvo. Quando ero, non so, di meno anni o in più, o in nove anni, o undici anni, o dieci anni, o in meno in più. Io, quando ero lì, con quegli altri ragazzi, io andavo con loro, un lungomare di Melotto Portosalvo, a passeggio, a para-passaggiata. Era bello quello giorno. E quando ero piccolo, non si può tornare indietro. Volevo tornare indietro, andare a vedere le persone, quelle là, che conoscevo io, i miei compagni di scuola, quando andavo a scuola, e tutti i parti. E non si può tornare indietro. Andiamo a scuola, o a passeggio. Vabbè, ora siamo grandi, possiamo andare con gli amici, con i compagni, amici, fidanzati, possiamo uscire con la macchina a peri, a fare la passeggiata. Non è che da piccolo, da ora, che ho 30 anni, si può uscire tutti i giorni. Come escono le ragazze o le ragazze, vabbè, le ragazze o le ragazze giovani, anche tutte le persone escono. Anch'io esco, fare, la mattina vado a Zapparavigna, presto, che dopo fa caddo. Voglio dire, vado presto a Zapparavigna, perché quando viene usuli, o il pomeriggio, o presto, o dopo, vado presto, uscuro, cuofrisco, vado a Zapparavigna, e dopo fa caddo. E dopo devo venire a casa, mi faccio la doccia, mangio, mi riposo, devo fare i lavori. E qua, anche qua faccio i lavori, il pomeriggio, raga, che io, a me mi piace tutti i tipi, di uscire, andare a parlare con le persone. Io non è che sto sempre intra, loro o si devono vergognare, o non hanno niente da fare. Io voglio salutare Mericola J, Lucia del Nord, Alacola X, Assunta, dopo Fabio, Valentina, Mausdre, Over, dopo Simone, Jody, D'Aurubino, Cristiana Bartomello, dopo saluto Valentino, Andrea, Francesco, Antonio e Salvo. Ciao a tutti e vi voglio bene. Se volete contattarmi, volete contattarmi, scrivetemi sui social, in privato, e parliamo a sera o quando volete voi. E vi faccio i saluti. E voglio dire anche che io non è che mi sperdi di voi, sono sempre qua, ok? Andiamo, dai. Ok, andiamo, dai. Ok, diciamo al RoboEco qualcosa e dopo chiudiamo e facciamo i saluti e rispondo a voi. E devo aprire anche il cellulare questo. Ok? Aspettate, bevo e torno e diciamo qualcosa al RoboEco. Non pensa a nessuno. State con me, non andate in giro a fare quelle là che non capiscono. State qua a seguire questo canale e quello là dei giochi, dei gameplay. Il sabato e la domenica carichi i giochi. Qua porto contenuti, il segreto, un micolo o altri video contenuti. Seguite questo canale e quello dei giochi, dei gameplay. Il sabato e la domenica. Vi voglio dire che qua sotto trovate sempre tutti i link quando carico i video su YouTube. C'è il link della mia lista. Tutti i sire, metto qualcosa. Mandatemi con il postino, non con il correere. Quell'altro è il link di Amazon. Vabbè, quello è il link dei gameplay. Il sabato e la domenica carichi i giochi. È un po' di giorno che mi fermai. Vabbè, continuo a registrare. E le pubblico dei giochi di gameplay. Qua pubblico tutti i giorni i contenuti, tutti i maneri. I miei occhi si chiudono e si aprono. Non solo a me, anche a voi. Le persone si devono vergognare perché domono da Fadda o in giro. E scappano e domono fuoco. Vergognatevi, persone maledette. Dovete vergognare. Non dovete bampare a Fadda e a erba cotta o verde. Non si deve bampare in giro. Vergognatevi, vergognatevi e vergognatevi. Le persone che scappano, si devono mettere le telecamere. Tutti i parti, così, quando le persone mettono fuoco da Fadda o in giro, così registrano. E i carbonieri o la polizia postale andate in carcere. Ok? Dai, io non è che mi arrabbio. Lo dico. Che sono grande e capisco meglio di loro. Sono bravo. Loro non capiscono. Io sono meglio di loro e sono sano meglio di loro. Sono un bravo ragazzo e sono giovane. E ho 30 anni e sono di Motta San Giovanni, pro-individo di Reggio Calabria. E sono il vostro idolo. E sono Enrico Pasquale Pratico Q2T e l'accendo sulla O. Andiamo. Dai. Ok. Ego! Quanti gradi ci sono a Motta San Giovanni? E in questo momento, a Motta San Giovanni Italia, la temperatura è di 37 gradi Celsius. Per stasera, la minima prevista è di 26 gradi. Buon giovedì! Vabbè, facciamo la tab. Ecco! Eeeh... Che ora è? Sono le 2.57 del pomeriggio. Avete sentito, raga, o lo volete... Lo dico di nuovo? Ecco! Che ora è? Sono le 2.58 del pomeriggio. E questa ora lo sto facendo. Andiamo. Ok. Sta cammanando. Ok. Mostro il mio corpo sex. Andiamo. Voglio una fidanzata. Voglio stare con me. Se devono trattare bene le donne e le ragazze e i bambini. Non è che si devono trattare male. Le persone sono strane o si devono vergognare. Loro non hanno una vita. Non hanno un cuore. La famiglia si deve trattare bene. Anche i parenti, i cugini, anche i figli, i sorelle e tutto. State in attesa. State attenti. Se devono trattare bene la nostra famiglia e tutti i tipi di persone. Vergognatevi, raga. Io lo dico. E commentate, stronzate, me ne frego. Eeeh... Via, via. O vi butto fuori cagata polta. Voglio dire, mettete mi piace. Seguitemi quando vedete. E niente. Iscrivetevi al canale. A bello a tutti ragazzi. Siamo qua. Un video normale. Pulito. Italiano. Che sono italiano, talabrezza e dialetto. E niente. Andiamo. Andiamo. Baci. Vi voglio bene. Andiamo, dai. Ok. Ci sono tante persone quando fanno o video o le foto o le storie, sento tutti i video o le storie che tirano i ruti, i scorreggi. Mamma mia che vergogna. Vabbè, io mi dissocio, mi scuso e perdonatemi. E niente. Andiamo. E cantiamo una canzone qua. E la vita se, fa cato se, voglio qui che nessuno c'è qui con me. La voglia di abbracciare la vita del cuore che batte accendo. Allora non c'è nessuno, raga. Vedete che non c'è nessuno. Ci sono solo io a registrare il video su YouTube. Sono il migliore. Comando io. Sono qui. Sono il re di YouTube. Sono il maestro di YouTube. Sono il migliore. Capisco meglio di voi la vita che sarei. E la voglia di abbracciare amore i miei. Io sono qua. Voglio baciarvi. Mi mancate da pazzire. So cantare. Non so cantare di te e voi. Sono meglio di voi. E so cantare ammuzzo con le frasi. Di bocca mi dissocio. Mi scuso. Perdonatemi. Ciao, raga. Ciao, raga. Vau, belli. Ho cantato una canzone così, ammuzzo. Raga, lasciamo ire. Io canto quanto voglio. Non pensate a quell'altro canale e i social. Quello che dicono di me. State in attesa. I notifichi. Attivate la campanella. Mi piace. Seguitemi quando vedete. Iscrivetevi al canale. Per tutti i ragazzi. E niente. Io vi porto tutti i contenuti dove voglio. Che comando io. Loro devono crescere. Non devono dire cazzate. Devono crescere quello che dicono. E non crescono. Stanno piccoli. Eh. Lasciamo ire, raga, raga. Io mi dissocio. Mi scuso e perdonatemi. Noi, io prendo un sroppo o un caramello. Ora vedo. Fa cazzo assai, mamma mia. Andiamo dai. Aprimo il cellulare. Che è tardi. Che sono già i 3. Sono già i 3 i pomeriggio. Ancora è presto e sono i 3. Lo sto facendo ora. Andiamo va. Guardate il video quello che si caricava ieri. Tardi. Notte. Andate a vedere quello. Quando si carica quello là. Che devo mettere. O questo, tutti i giorni io importo i contenuti. Andiamo dai. Andiamo dai. Basta. Metto pause. E chiudiamo nella mia stanza. La mia stanza dove dormo. La stanza blu. Andiamo. Mi dissocio. Ok. Eccoci qua. Apriamo il cellulare. Questo qua. Vediamo al prossimo video. Andiamo a vedere i messaggi sui social che dicono le persone. Leggo i messaggi e saluto i loro nomi. Le saluto. Una storia, un indiretto, un video. Ora vedo. Ok. Sto aprendo il cellulare. Ok. Sta aprendo. Aspetta. Ho fatto troppo lungo. Chiudiamo, dai. Ok raga. Io vi saluto. Grazie a tutti. Tutti i giorni di video per voi. E niente. Alla prossima. Ciao belli. Tanti baci. E niente. Ciao raga. Ciao ciao. Vi voglio bene. Ok. Fate bravi. Ok. Vi butto fuori la catapulta. Io seguo tutti i miei persone che seguono a me. E tutti i miei fan i saluto. E sono il loro idolo. Ciao belli. Ciao raga. Baci. Baci. Una love you. Mi dissocio. Ciao.